Svolta nell'inchiesta sull'omicidio nei boschi del Rugareto a Rescaldina, due ordinanze di custodia cautelare eseguite dai carabinieri di Legnano. Se dovesse succedermi qualcosa, vai dai carabinieri e racconta quello che ti sto dicendo. Wadi Abouda immaginava che la sua vita fosse in pericolo. Una settimana prima di essere ammazzato nel bosco della droga, aveva rivelato la fidanzata di essere bersaglio di minacce. Le aveva dato il suo passaporto, fatto nomi e cognomi e le aveva pure mostrato le foto dei rivali dello spaccio. Ieri la svolta per il delitto dello scorso 2 aprile, primo giorno di Ramadan. I militari, coordinati dal pubblico ministero Carlo Alberto Lafiandra, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP Stefano Colombo portando in carcere due marocchini indiziati dell'esecuzione di Jimmy, il 25enne che nell'ultimo anno si era imposto come leader del Rugareto. Indagati, assistiti dagli avvocati Lara Paladino e Roberto Grittini, saranno interrogati entro martedì.